Grazie 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 a tutti. Grazie. 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 . . 4-6-6-6-6 2-3-5 Ehi oltre ilortico? Cuida Audi Ehi oltre Grazie a tutti. 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 Adesso. Adesso. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Ma cosa devo dire? Tu devi accorare la tonela! Alla destra! Alla destra! Alla destra! Dai Luca! Dai Luca! Sì! 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 Bravo! Mauro! Sì! 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 Dio! Y sé punto por tenere! Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.